Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo, tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 16 luglio, riguardanti le trattative in Serie A, e all'estero. Tra ritiri precampionato e il calciomercato in corso, è un mese di luglio intenso per le squadre della Serie A, 2024 fratto 2025 anche senza scendere ancora in campo. Anche oggi, una giornata in cui seguiremo con interesse le tante notizie e i rumors sulle varie trattative, la Juventus insiste per Copp Mainers dopo gli arrivi di Douglas Luiz, di Gregorio e Turam, ma prima dell'assalto al gioiello dell'Atalanta deve monetizzare con le cessioni. Chiesa, sull'Euis non restano gli indiziati principali per fare cassa. Sul talento argentino, oltre all'Ester, c'è il Pressing della Roma. Il Milan è in chiusura per Morata, il diavolo paga la clausola, attese nei prossimi giorni a Madrid le visite mediche dell'attaccante campione d'Europa. L'Inter accelera per Cabele e intanto continua a cercare acquirenti per Corea e Valentin Carboni. Contatto fra Napoli e PSG per Ousimen, con i parigini che puntano allo sconto per il nigeriano rispetto alla clausola da 130 milioni, tutte le notizie di calciomercato di martedì 16 luglio.